Noi agenti immobiliari di Napoli, come anche in altre città che stanno andando avanti con questa iniziativa, abbiamo fornito il nostro supporto in varie situazioni per sia il recupero dei valori, sia l'esame prima della pubblicazione dei vari valori, in modo tale che i valori non sono usciti da un'unica fonte, ma dopo la valutazione di più fonti sono stati esaminati, ritenuti congrui e poi pubblicati.